Salve a tutti, allora nell'ambito delle enorme mole di lavoro che ci siamo ritrovati a gestire nell'arco di questa manifestazione ci sono alcuni settori strategici sui quali credo occorrono degli approfondimenti anche per essere quanto più trasparenti possibili nei confronti di chi ci ascolta e ci segue. Parliamo ad esempio di comunicazione, lo facciamo in compagnia di Rocco Trisolini, founder, io direi Deus Ex Machina di Rotora che è l'agenzia che si è occupata per conto della fondazione del Carnivale di Putignano di tutto quanto ha riguardato questo delicato e fondamentale settore. Allora Rocco partiamo dall'inizio, da quando cioè avete assunto ufficialmente il vostro incarico in quel di novembre e di come avete organizzato e strutturato il vostro impegno senza dimenticare naturalmente l'apporto decisivo di tutti i vostri collaboratori. Ma intanto ci tengo a precisare che abbiamo seguito l'incarico affidatoci applicandovi le logiche e le tecniche del marketing strategico. Questo è l'ambito in cui lavoriamo ed è quello che noi sappiamo fare meglio. In base alla nostra esperienza un evento così importante va prima strutturato strategicamente e poi comunicato. Non può essere la comunicazione da sola ad allineare l'entità della manifestazione o addirittura a dettarne le linee guida. Per questo noi siamo partiti dal brief, dalla visione raccontateci dal CDA ed ha l'obiettivo di voler ampliare i confini territoriali e dell'interesse culturale ed economico per il carnavalo di Codignano. E quindi abbiamo proseguito segmentando e analizzando il target del pubblico partecipante, dei protagonisti stessi, di ogni tipologia di fruitore per comprenderne gli interessi, i vantaggi ricercati, i gusti e quindi poter fare una previsione più precisa possibile dei comportamenti e delle preferenze. Solo successivamente abbiamo pianificato le attività di comunicazione vere e proprie che abbiamo realizzato e gestito lavorando gomito a gomito con tutti. Dal direttore creativo al direttore commerciale, ai maestri cartapestai, allo staff tecnico ad ognuna delle persone coinvolte con l'intento proprio di generare quel valore atteso che ci eravamo prefissati. Ecco, appunto, cosa è emerso dal vostro lavoro di analisi in merito all'evento carnevale? Direi che sono emerse proprio le potenzialità enormi che ha una manifestazione come questa, di diritto tra le più importanti in Puglia, che ritengo sia doveroso mettere a frutto secondo le logiche di un management moderno. Delle potenzialità che ha fatto diventare sistema farebbero acquisire una forte identità alla stessa manifestazione diventando sicuramente un traino culturale ed economico per tutta la comunità e non solo per il periodo del carnevale ma per tutto l'anno. E noi abbiamo lavorato con queste finalità, quindi il lavoro di analisi è servito non solo a capire meglio il potenziale dell'evento e come contribuire a realizzarlo, ma anche a determinare come comunicare e promuoverlo, quali canali utilizzare, cosa raccontare, quando, proprio per rafforzarne l'identità e renderlo più apprezzato e partecipato possibile. Bene, nel corso delle settimane e dei mesi che avete vissuto al fianco del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Carnevale avrete avuto modo di constatare punti di forza e perché no, anche qualche attuale debolezza dell'evento, perché insomma è inutile negarlo, si può sempre far meglio, tutto è perfettibile. Per questo ti chiedo un tuo parere in merito, anche in relazione a quelle che potrebbero essere le potenzialità finora inespresse del Carnevale di Putignano. E questa è una domanda un po' scomoda, ma cercherò di essere sincero. Sono rimasto stupito dal fatto che una manifestazione con tanta storia avesse un formato organizzativo ben definito solo per gli aspetti legati alla cultura, alla religione e al folklore, e non ad esempio ad altri aspetti come quelli economico-commerciali, di entertainment puro e gestionali. Ecco, questo può essere definito un punto di debolezza, ma è anche quell'aspetto che giustamente questo CDA ha dichiarato di voler migliorare in primis, secondo quella che è la sua visione. Rocco, tu parli spesso di comunicazione come di un tramite per rendere chiara l'identità di una manifestazione. Cosa intendi? Beh sì, la comunicazione è un aspetto importante per l'acquisizione di un'identità da parte di una qualsiasi organizzazione. Io sono convinto che comunicare sia essenzialmente chiarire e lo si può fare solo dopo aver compreso i bisogni di tutte le parti, rispettando gli aspetti culturali e gli interessi specifici. Di fatto noi non ci siamo preoccupati, ma di comunicare solo verso l'esterno ad un'audience rappresentata dal pubblico, ma anche di gestire appunto la comunicazione interna con e per il CDA, con tutti i collaboratori, i fornitori, i sponsor stessi che sono sicuramente un target importante con cui instaurare e gestire in maniera proficua un rapporto di comunicazione dell'evento e nell'evento. E così abbiamo fatto con tutti gli altri stakeholders coinvolti. Saper solo scrivere bene ho paura che non basti per comunicare al meglio il Carnevale di Putignano. Ecco, a questo proposito Rocco, voi insomma, tra virgolette, siete nuovi nel contesto Carnevale di Putignano. Quali sono state, a tuo avviso, le principali difficoltà incontrate dalla vostra agenzia, magari comparando l'esperienza appena conclusa con i lavori che avete svolto in passato per conto di altri committenti? Credo che la difficoltà principale incontrata nel comunicare al Carnevale sia derivata dalla caratteristica di intangibilità, che è propria degli eventi in genere, al contrario di quello che accade per un prodotto solitamente. Un evento è intangibile perché è costituito da un insieme di coinvolgimenti emotivi. Si pensi quindi che si tratta in definitiva di riuscire a comunicare il valore di un'emozione, che non è sempre semplicissimo da fare. Noi abbiamo pensato di farlo puntando sulla differenziazione, per far conoscere e capire a fondo le caratteristiche distintive e l'umanità che c'è all'interno di un evento così speciale. In chiusura Rocco, prova a tracciare un bilancio e magari guardiamo anche in prospettiva, pensando eventualmente a come poter integrare questo lavoro in futuro. Solitamente per ognuno dei lavori che facciamo io sono soddisfatto dell'impegno che ci mettiamo e devo dire che sono soddisfatto anche di quello che ci abbiamo messo nello svolgere questo lavoro. Come detto prima, tutto è migliorabile. Di fatto le esperienze vissute e tutta una serie di dati e informazioni utili che abbiamo acquisito facendo in corso d'opera questo lavoro consentiranno di tarare al meglio la strategia e la campagna di comunicazione nella prossima edizione. Di fatti li abbiamo forniti a consuntivo al CDA proprio a vantaggio di chiunque sarà incaricato di svolgere tale lavoro l'anno prossimo. Comunque tutti noi pensiamo di essere riusciti a confezionare una comunicazione efficace che dai riscontri ricevuti è stata in effetti in grado di aumentare la awareness, la conoscenza dell'evento e metterne in mostra un valore che sarà sicuramente in grado di crescere e durare nel tempo. Allora adesso ci facciamo una chiacchierata con il nostro direttore commerciale Gianluca Trisolini che è un po' il nostro uomo dei numeri che a me piace definire anche come l'uomo della vetrina perché il suo compito è stato anche e soprattutto quello di mettere in mostra il nostro carnevale e farlo crescere sul piano del marketing e dell'immagine dandogli finalmente una connotazione diversa dalla grande festa di paese come veniva invece immaginata e vissuta nel passato. Allora Gianluca parlaci un po' della mission, degli obiettivi che ti sei posto appena hai deciso di accettare la proposta del consiglio di amministrazione della fondazione del carnevale. Il concetto base sul quale ho incentrato tutto il lavoro è stato quello della valorizzazione nel senso che di concerto con il CDA e con tutta la squadra di lavoro che ho potuto coordinare quello che mi premeva era valorizzare l'evento carnevale di Putignano per quello che davvero secondo me rappresenta e quindi un evento di portata nazionale che così deve essere vissuto gestito e proposto sul mercato in tutti gli ambiti per cui la nostra mission è stata proprio quella di valorizzare l'evento. Da vicino di casa fino ad oggi mi è capitato di vivere l'evento, sentirlo e fruirlo solo come se fosse una sorta di grande festa di paese, bellissima, coinvolgente, ma che aveva delle dinamiche, delle logiche che sono legate proprio ad una grande festa di paese nel senso vero e proprio del termine. Per cui abbiamo cercato in ogni ambito comunicazione, raccolta commerciale, ticketing, fruizione, coinvolgimento della cittadinanza in termini sia di fruizione, di persone che da un punto di vista prettamente commerciale, di rendere tutto questo ad un livello superiore che è quello legato normalmente ai grandi eventi che si sviluppano su scala nazionale all'interno dei quali deve necessariamente rientrare anche il carnevale di Putignano. Gianluca parliamo strettamente di politica commerciale che hai messo in campo, un po' le linee guida del tuo operato, quali sono stati i concetti fondanti dell'area marketing e a questo proposito mi piacerebbe che tu mettessi in evidenza il distinguo che fai tra sponsor e partner, perché è un discorso particolarmente interessante. Anche la politica commerciale si è adeguata a quella che è la mission principale dell'evento, quindi anche in questo caso ci siamo mossi nell'ottica della valorizzazione. La politica commerciale l'abbiamo incentrata tutta all'interno di questo semplicissimo concetto. Io ritengo che il carnevale di Putignano, e quando ho detto questa cosa per la prima volta al CDA mi hanno preso forse un pochino per matto, ma ritengo che il carnevale di Putignano non abbia bisogno di sponsor, il carnevale di Putignano ha bisogno di partner. La differenza è sottile ma ben delineata. Ad uno sponsor può bastare la visibilità statica all'interno di un evento, quindi questi mega striscioni da 20-30 metri che invece quest'anno abbiamo assolutamente eliminato. Quello che invece dà forza alla presenza di un brand al nostro fianco è l'evento stesso, non perché ci sia uno striscione di 50 metri, di 30 metri che rappresenta il brand di un'azienda, ma perché invece, come abbiamo voluto fare noi per esempio, la totalità dell'evento viene messa in evidenza e quindi essere partner di quell'evento diventa un valore aggiunto. Beh, credo insomma sia anche doveroso parlarci dei marchi che ci hanno accompagnato citandoli, ringraziandoli ovviamente per la loro presenza al carnevale di Putignano. I nostri main partner, azienda del calibro di Volkswagen Italia, con tutte le auto che ci ha messo a disposizione grazie all'intervento di Volkswagen Centrum di Bari, piuttosto che Webidoo, la nostra agenzia per lo sviluppo digitale e della comunicazione digitale, ha studiato Webidoo per la prima volta nella storia l'app del carnevale, quindi la possibilità di crescere insieme, di valorizzare l'evento attraverso un'app dedicata che forniva informazioni a tutti i fruitori dell'evento stesso. Ma posso citare anche il caseificio Palazzo, che con noi ha creato all'interno dell'evento una mostra che potesse rappresentare e raffigurare l'artigianalità, quindi un concetto base sul quale un colosso fonda la propria produzione e quindi un'azienda importantissima del territorio che si affaccia per la prima volta come main sponsor e subito ne sposa il concetto allestendo una mostra dedicata sul connubio tra artigianalità della carta pesta e artigianalità del settore caseario. Questo è stato fatto di concerto tutti insieme e questo rende proprio il concetto di valorizzazione di partnership all'interno dell'evento. Ma non ci dimentichiamo di Unipolsi con attività abbattente sulla strada, sulla nostra piazza, nel villaggio commerciale, con il loro stand dedicato e la possibilità di avere sconti, promozioni e di partecipare all'evento stesso con i loro gadget. Gadget che erano strumentali alla fruizione dell'evento carnevale, quindi che potessero essere comunque consoni alla manifestazione e non solamente ad un utilizzo a posteriori. Come dimenticare tra gli altri anche Dolce e Bontà che è un'azienda storica da sempre al fianco del carnevale che ha sposato questa nuova logica. Ad ogni ingresso, ogni tagliando staccato da parte di un fruitore, di un venditore del carnevale è corrisposto una bustina di prodotti Dolce e Bontà che potesse in qualche modo dare il benvenuto all'interno della manifestazione valorizzando e coccolando l'utente che compra un biglietto per venire a vedere il carnevale di Putignano, riceve un cadeau all'ingresso, un cadeau non dovuto, ma che nasce appunto dalla partnership con l'azienda che sta al nostro fianco. Non dimentichiamoci tra le altre, ma senza far torto a nessuno, perché per fortuna la raccolta commerciale è stata davvero importante e tante aziende hanno creduto al nostro progetto, ma su tutte mi piace ricordare la Ferrero che con il marchio Kinder è stata per la prima volta insieme a noi in piazza nel nostro villaggio commerciale. È la prima volta che questo brand sposa il carnevale di Putignano, era stata già presente in altri carnevali, quest'anno proprio per avere presenza su tutti i carnevali, la cosa che ci rende particolarmente orgogliosi è che con noi è stata due giorni nelle giornate più importanti, quindi nel giorno di carnevale e nel giorno di martedì grasso. Hanno dato la possibilità di giocare a n bambini, migliaia di bambini e di famiglie e questo ci rende molto orgogliosi. Questo è il concetto di partnership che noi vogliamo adottare da oggi in poi nell'ambito proprio della politica commerciale legata al carnevale. Ecco Gianluca, al di là dei grandi nomi credo sia stata importante e direi fondamentale anche la presenza del territorio al nostro fianco, penso in questo caso ai commercianti di Putignano. Si è detto sempre in passato che i commercianti non avessero mai voluto dare il loro contributo, il loro apporto e invece quest'anno è arrivata la smentita, forse perché probabilmente per la prima volta i commercianti hanno trovato delle iniziative solide e concrete da poter sposare nell'ambito della manifestazione. Chiaramente la stessa logica poi non ha riguardato solamente quello che erano le sponsorizzazioni principali, quindi i main partner dell'evento piuttosto che gli sponsor ufficiali o i fornitori ufficiali. Vi ringraziamo tutti indistintamente, ognuno ha sposato la logica della partnership e non solamente della fornitura di un servizio piuttosto che dell'acquisto di uno spazio pubblicitario. Noi siamo andati ben oltre insieme a tutti e grazie al lavoro di tutti. Ma la stessa cosa ha riguardato anche per quanto riguarda il coinvolgimento del territorio e quindi abbiamo creato l'ambito del progetto Io sto con il Carnevale che ha consentito a circa 35 esercizi commerciali di Putignano di poter avere visibilità attraverso quelli che erano i canali ufficiali del Carnevale, dall'app al sito, valorizzazione con l'indicazione ben precisa e l'identificazione ben precisa del punto vendita che aveva la possibilità di instaurare attività e promozioni per chiunque fosse fruttore del Carnevale. Quindi anche in questo caso ad ogni biglietto corrispondeva la possibilità di avere delle scontistiche e delle promozioni particolari all'interno del circuito. A chi aderiva al circuito sono state offerte delle convinzioni particolari rispetto all'acquisto di gadget ufficiali ma anche di ticketing e di biglietti di ingresso. Questo perché aderire al Carnevale, essere parte del Carnevale appunto non vuol dire comprare uno spazietto su una locandina ma vuol dire semplicemente avere l'accesso a strumenti di valorizzazione di tutto e quindi non solo dell'evento ma anche della presenza al fianco dell'evento. Gli aderenti al circuito Io sto con il Carnevale avevano possibilità di comprare biglietti a prezzo convenzionato con loro da poter non rivendere attenzione perché questo chiaramente non è quello che ci interessa ma da poter utilizzare a livello promozionale e quindi da poter ridare i propri clienti gratificando la clientela, affezionandola all'interno di un discorso di valorizzazione di una partnership vera e propria e di una presenza al fianco del Carnevale. Ora parliamo della fruizione dell'evento. In cosa è cambiata la manifestazione rispetto al passato proprio dal punto di vista concettuale? Valorizzare un evento non può prescindere dalla valorizzazione dell'evento stesso nell'ambito della fruizione. La fruizione dell'evento diventa fondamentale perché se da un ambito prettamente commerciale abbiamo dovuto lavorare sull'esclusività di alcune situazioni, esclusività che, consentitemi, non può essere definita e delimitata ad un posto all'interno di una tribuna per vedere dall'alto i carri, ma deve essere legata a dei concetti di esclusività che possa essere in particolar modo rivendibile da parte dell'azienda nei confronti dei propri canali promozionali. E quindi in questo ambito aumentando la fruizione, lavorando proprio sulla fruizione dell'evento in maniera esclusiva, a tutte le aziende abbiamo concesso la possibilità di transitare, di sostare, di creare delle piccole occasioni di briefing con i propri clienti, ma con altre aziende anche, quindi con delle occasioni di B2B all'interno della nostra sala ospitalità. Sala ospitalità che abbiamo creato all'interno del chiostro comunale, insieme e in partnership anche in questo caso con il Comune di Putignano, che ringraziamo, sala ospitalità che ha visto la possibilità di avere un piccolo catering a disposizione di tutti i nostri ospiti per un post sfilata che potesse in qualche modo rappresentare una ciliegina sulla torta, quindi della manifestazione, dell'evento e dalla fruizione da parte degli ospiti delle nostre stesse aziende, dei nostri stessi partner. In questo modo c'è stata possibilità di favorire il contatto, il dialogo, il confronto e quindi di lavorare in questo ambito. Un occhio di riguardo in questo senso è rivolto un po' a tutti, penso ai partner, agli ospiti, alle famiglie, ai diversamente abili. Ma la stessa cosa bisognava necessariamente fare nei confronti dell'utente finale, quindi dello spettatore che compra il biglietto e viene al carnevale. Per la prima volta abbiamo avuto l'istituzione di un servizio Narseri all'interno di un evento del genere, ci sembrava e mi sembrava impossibile non poter avere un occhio di riguardo nei confronti delle famiglie, per cui anche le famiglie avevano uno spazio dedicato, la nostra Narseri, all'interno del quale in maniera assolutamente gratuita e grazie al sostegno anche di nostri partner che in questo modo rafforzano il concetto di partnership vera e propria, potevano andare nella nostra Narseri e avere personale dedicato, avere uno spazio dedicato dove poter cambiare un bambino, farlo riposare un attimo, prendere un piccolo snack per il bambino stesso, ringraziamo in questo proprio la partnership con Casificio Palazzo che ha creduto nel progetto, e avere un ambito di relax, per poter uscire dalla manifestazione rimanendone all'interno e soprattutto per poter avere delle attenzioni dedicate che fanno sì che il risvolto sociale dell'evento abbia una valutazione qualitativamente positiva, tutto questo fa crescere un evento in termini di valorizzazione, la valorizzazione positiva da parte del cliente business e da parte del futuro finale, questo è stato l'ambito all'interno del quale abbiamo cercato di muoverci proprio per ottenere tutto questo. Nei confronti dei diversamente abili abbiamo avuto per esempio, sempre nell'ottica della valorizzazione anche della fruizione dell'evento stesso, abbiamo avuto la collaborazione con un'associazione dedicata per la prima volta che si affacciava a Potignano e che per la prima volta ha potuto rappresentare un punto fermo per consentire a chiunque di fruire bene dell'evento. Spazio dedicato, possibilità di wallet per quanto riguarda il loro arrivo, carrozzine, sedia e rotelle, tutte le facilità necessarie a quello che ci serviva affinché la valorizzazione anche in questo ambito della fruizione potesse essere decisamente maggiore rispetto a quello che normalmente si può pensare in un grande evento, quindi abbiamo cercato di abbattere tutte le difficoltà che potessero essere legate a situazioni particolari che invece vanno assolutamente tenute di conto e vanno valorizzate, aiutate e superate per quello che può essere nei nostri accordi. Ecco, come al solito a fine manifestazione la classica domanda, la dico volgarmente, quanto avete incassato? Diciamo che siamo ancora in fase d'analisi, purtroppo le limitazioni di queste settimane dovute al coronavirus non ci hanno permesso di mettere appunto tutto il lavoro post evento, quindi ancora dobbiamo insomma mettere in ordine i numeri, i conti. Probabilmente ecco da questo punto di vista tu sei più bravo di me e magari puoi tracciare già un primo bilancio, non so. E in ultimo un'analisi dei numeri l'abbiamo fatta, la stiamo ancora facendo e possiamo essere contenti perché se a guardarli in maniera fredda ci hanno dato già un bel conforto, in realtà quello che non voglio è far passare il concetto che i numeri che abbiamo sviluppato siano il punto d'arrivo del nostro lavoro. In realtà, seppur nel confronto con le passate edizioni possono in qualche modo confortare rispetto alla bontà della direzione intrapresa, non del lavoro, attenzione, ma della direzione che abbiamo intrapreso, in realtà per noi questi numeri non sono punto d'arrivo, ma punto di partenza. Punto di partenza dell'analisi strategica che dobbiamo fare rispetto a quelle che sono le variabili che abbiamo messo in campo, le leve che abbiamo voluto utilizzare per sviluppare la nostra politica commerciale. E quindi in questo ambito quello che stiamo facendo è analizzare tutte le aree di intervento, perché questi numeri vanno letti, interpretati e studiati proprio in quelle che sono le politiche di ticketing che abbiamo dovuto adottare, le politiche del settore travel, quindi del coinvolgimento a livello professionale di tour operator e quant'altro e nella gestione degli stessi. E quindi questo è il nostro nuovo compito in questa fase di quarantena forzata. Stiamo studiando questi numeri per elaborare strategie affinché possano essere migliorativi rispetto a quest'anno già nelle prossime edizioni. E ho, e ho, e ho, e ho, arriva il carnevale, e ho, e ho, e ogni scherzo vale, e ho, e ho, e ho, facciamo un gran bancano, arriva il carnevale, quello di tutti in mano.